Gabriel Boric è il nuovo presidente della Repubblica del Cile, 36 anni, leader della sinistra, ha ottenuto un risultato schiacciante sul rivale ultraconservatore José Antonio Kast. Deputato, Boric ha assicurato che sarà il presidente di tutti i cileni, lo ha detto durante la tradizionale telefonata televisiva con il presidente uscente, Pignera. Boric propone di rafforzare il ruolo dello Stato nell'economia, un aumento delle tasse per finanziare la spesa sociale e la fine del sistema pensionistico privato.